Che partita veramente, che partita tra Verona e Sassuolo e Verona, finisce 2 a 4 per il Verona, sono a mare intanto, finisce 2 a 4 per il Verona, partita bellissima, clamorosa, incredibilissima, incredibile proprio, e nulla ragazzi, che cosa dire, tripletta di Barak, gol di Caprari e gol di assist di Barak, Barak fa una partita veramente bellissima, di quelle esagerate e clamorose, Dicevo, quelle esagerate e clamorose, Sassuolo che si ferma, poi si ferma a 28, nulla, è la partita, ora giocheranno Venezia, Empoli, ovviamente non dal mare, è impossibile, e nulla ragazzi, Io vi saluto, ci vediamo con i prossimi video, 2 a 4, quindi finisce, ciao!